Che differenza c'è tra una roccia e un minerale? Definizione Rocce minerali Le rocce non presentano una composizione chimica definita e non possono essere espresse attraverso una formula chimica. Possiamo distinguere rocce eterogenei. Le rocce sono costituite da diversi minerali uniti fra loro. Rocce omogenei Una roccia omogenea presenta un solo tipo di minerale. In questo caso la differenza tra una roccia e un minerale è data dalla presenza di impurità. Inoltre in questo caso la differenza tra roccia e un minerale è molto sottile. I minerali sono corpi inorganici naturali costituiti da una composizione chimica definita o variabile. A presto! Non si strade E到了 un minerale Inoltre 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 inoltre. La tigra di impurità Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi aspetto.